Abbiamo registrato particolari episodi di intolleranza o di antisemitismo, peraltro la nostra regione è una regione piuttosto povera di presenza di popolazioni di religione ebraica purtroppo e questo mi dispiace anche perché la presenza degli ebrei porta sempre ricchezza culturale, sociale e anche economica, quindi ci piacerebbe avere una comunità più presente e più forte. Purtroppo in giro per l'Italia come per tutta l'Europa invece questa recrudescenza si avverte e a volte c'è anche qualche tasso di irresponsabilità in chi alimenta paragoni impropri mettendo sullo stesso piano lo Stato democratico di Israele con i terroristi di Hamas facendo paragoni intollerabili.